Un saluto da Marco Brucoferri, leader degli S.O.S. e S.E.V.A.W.A.R.S.S. e da... Dario Luca Treni, presidente di NDS in musica. Allora, sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione di Rottergato Italia. La trentesima. Ecco, la trentesima. È il contest sicuramente più importante per la musica rock, ma direi non solo rock, in Italia. Mi raccomando, iscrivetevi se fate musica originale, perché la musica originale è importante. Va valorizzata e premiata, quindi iscrivetevi. Allora, vi aspettiamo e aspettiamo tutte le vostre iscrizioni alla trentesima edizione di... Rock Treni, Italia. Viva la musica. Viva il rock italiano.